Teneva la droga e il denaro provento a dispaccio in un garage, ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia ad Arezzo. Si tratta di un uomo di 38 anni fermato lo scorso 2 maggio durante un controllo su strada in città. Gli agenti hanno notato una borsa di piccole dimensioni e un piccolo involucro in cellofan nascosto sotto il sedire del passeggero. Così è stata decisa la perquisizione del veicolo. L'uomo durante il controllo ha anche cercato di disfarsi di un altro involucro in cellofan cercando di lanciarlo sotto l'auto. All'interno dei due involucri c'era marijuana, non solo. Nell'auto c'erano anche un manganello telescopico e un coltello multiuso. La perquisizione si è così estesa all'abitazione dell'uomo e qui, nascosta in un garage, sono state ritrovate varie buste di cellofan contenenti in tutto circa 1,6 kg di marijuana e anche 4 g di cocaina e due bilancini di precisione. Infine sono stati ritrovati anche circa 32.000 euro in banconote da piccolo taglio, forse provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti e si trova adesso presso la casa circondariale di Arezzo.